Comunque, ieri sono stato sempre in Puglia prima di prendere l'aereo per tornare qui a Roma con Giorgia Meloni, un pomeriggio di pausa, di serenità, in famiglia, perché oltre la politica c'è anche l'amicizia, ci sono i rapporti umani, c'è la stima, c'è la fiducia, devo dire che lavoriamo veramente bene insieme. I giornali lo sanno, quindi si inventano litigi, divisioni, polemiche che non ci sono, non ci sono sulla RAI, non ci sono sulla Commissione Europea e penso che Raffaele Fitto abbia tutti i numeri per essere un ottimo commissario europeo a Bruxelles indicato da questo governo. Stiamo già lavorando alla prossima legge di bilancio, alla prossima manovra economica per quello che riguarda la Lega, penso l'intero governo, mantenere gli aumenti degli stipendi sarà la priorità, che vuol dire abbassare le tasse. Stiamo lavorando anche per incrementare la flat tax, il taglio delle tasse per autonomi, artigiani, commercianti, partite IVA e per aiutare l'uscita dal mondo del lavoro per chi non ce la fa più, superando i vincoli della legge Fornero. Quindi tasse, stipendi e pensioni. Ovviamente non si può fare tutto e subito, siamo solo a neanche due anni dei cinque previsti, abbiamo ancora più di tre anni però ci stiamo lavorando.